Mentre Ulisse si è salvato rigurgitando la carne intrissa di veleno, la sua compagna di strada è morta, stroncata dalla dose killer contenuta nell'esca. Ulisse, il cane randaggio coccolato dagli abitanti di Contrada Giacchia da Tripada, è rimasto così solo, accudito dai volontari dell'AIPA di Angela Luongo. Sarebbe anche difficile spiegargli perché tanto odio nei confronti della sua compagna e di tanti altri quattro zampe, sì perché, come denuncia la stessa Luongo, sono innumerevoli gli animali, compresi anche gatti e uccelli uccisi nella Contrada, ridosso della variante 7 bis. Una strage silenziosa, l'ennesima tra Avellino e da Tripada, che rischia di rimanere impunita come tante altre. A tra proposito, la presidente dell'AIPA lancia un appello alla comunità a segnalare e raccogliere indizi utili a risalire all'autore della mattanza. Un feroce serial killer, che da anni ormai mete morte e terrore nella Contrada, attirando gli animali con le polpette imbottite di veleno, capace di provocare il decesso all'istante delle vittime. I veterinari, l'Istituto Zoprofilattico di Portici, più di una volta hanno accertato l'inquietante causa dei decessi. In alcuni casi il killer avrebbe anche esploso dei colpi d'arma da fuoco per uccidere cani e gatti a Contrada Giacchi. La Polizia Municipale ha esposto dei cartelli per avvertire i residenti del pericolo. Gli animalisti chiedono massima collaborazione ai cittadini per incastrare i colpevole, ma l'appello è diretto anche alla Procura della Repubblica di Avellino a fare piena luce su un'oscura vicenda, incubo di tutta una comunità.